Eccoci al primo appuntamento con la cittadella galileana, siamo qui con il professor Guido Pampaloni che questa sera ci racconterà qualcosa di molto interessante sull'universo. Di cosa parleremo questa sera? Questa sera parleremo di origine degli elementi, ossia come siamo arrivati, è stato possibile che si generasse i mattoncini che poi sono andati a costituire le molecole che hanno poi dato origine alla vita sulla Terra. Ecco, è una tematica molto molto interessante che ci parla di vita, di universo, perché il professore è anche un grande appassionato di astronomia, vero? Senza dubbi, senza dubbi. Mi ricordo io ho cominciato solo con gli occhi, senza strumenti che costavano troppo, da bimbo, proprio di vero, tanti anni fa. Poi la cosa è iniziata nel 96, quando mi sono comprato un bel telescopio. A quel punto è sbocciata, diciamo così. Sbocciata questa passione e adesso, questa sera, ci approfondiamo, cominciamo a sentire questa prima conferenza. Giovedì, tutti i giovedì, alla cittadella galileana.